Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia, le principali notizie. Il presidente Mattarella è al casello di Maniace a Ortisa con il collega tedesco Steinmeier. Stasera saranno insieme al Teatro Greco, domani a Piazza Armerina. Con la Germania, relazioni straordinarie, dice il capo dello Stato. Caravoli, faccia a faccia a Schifani Wilson di Ryanair, il governatore conferma la richiesta di garantire in Sicilia tariffe aeree più accessibili. Intanto l'antitrazza avvia un'ispezione sui prezzi praticati da Ryanair. A Lampedusa è sempre emergenza. Nel pomeriggio è prevista una nuova manifestazione dei residenti contro le Zendopoli. Sull'isola, il leader dei 5 Stelle, Conte. La Catania del futuro, nuove isole pedonali, la metro fino al Duomo, il passante ferroviario per l'alta velocità. I progetti illustrati dal vice sindaco La Greca a Buongiorno Sicilia. A Catania sancita l'Alleanza Europea tra Università. Gli studenti saranno protagonisti del cambiamento. A Tre Messieri una mamma si incatena un pino secolare davanti alla scuola del figlio. C'è rimasto solo questo. Il comune ne ha già battuti due, dice, senza motivo. I Poo incantano a Grigento in chiusura del loro tour estivo e entusiasmo nella magia della Valle dei Templi per il pop più amato dagli italiani. Calcio Catania domani a Monopoli per provare a fare il bis di Vittoria. Dopo la gara col Piceno non ci saranno i tifosi rossazzurri. Tabbiani cambierà qualcosa nella formazione. Ben trovati. Iniziata la due giorni siciliana della Presidente della Repubblica Mattarella e del suo collego tedesco Steinmeier. Questa mattina il bilaterale al Castello Maniato e a Siracusa. Nel pomeriggio altri appuntamenti sempre in città e domani visita a Piazza Armerina. Stasera i due presidenti assisteranno a uno spettacolo al Teatro Greco. Francesco Aloi. Dal cielo ma anche via terra e via mare. A Siracusa c'è il bilaterale Italia-Germania e Ortigia è superblindata. Per l'incontro con il suo omologo tedesco il Presidente Mattarella ha scelto il Castello Maniace. Più di 20 minuti di attesa prima dell'arrivo di Steinmeier. Tempo che Mattarella ha speso per osservare le meraviglie della fortezza federiciana. Poi un saluto alla stampa e l'inizio del dialogo tra le delegazioni per parlare di partenariato tra i due paesi. È una Siracusa diversa a quella che oggi si presenta a residenti e turisti. Centro storico con pochissime auto e tantissimi uomini delle forze dell'ordine. Ma la giornata siracusana nel pomeriggio continua al Teatro Comunale con la premiazione di alcuni sindaci italiani e tedeschi. Un riconoscimento giunto alla seconda edizione che premia alcune città gemellate tra loro. Poi i due capi di Stato faranno un giro in Piazza Duomo e per finire al Teatro Greco. Oggi e domani c'è Ulisse L'Ultima Odissea e i presidenti hanno deciso di assistere allo spettacolo. Domani Mattarella e Steinmeier saranno a Piazza Armerina dove visiteranno la comunità Don Bosco 2000 che ospita i migranti. Caro voli, ipotesi di tavolo tecnico permanente fra la regione siciliana e Ryanair per tenere sotto controllo i prezzi dei biglietti degli aerei e prove di pace fra le istituzioni e la compagnia. L'antitraste intanto indaga per abuso di posizione dominante. Malio Viola. Prove tecniche di dialogo fra la regione siciliana e Ryanair, la compagnia di volo con la quale prima la Sicilia e poi l'Italia hanno avviato una vera e propria guerra delle tariffe. Dopo che il decreto prezzi del ministro Urso è stato parzialmente modificato, si apprende che l'antitraste indaga sull'ipotesi di abuso di posizione dominante da parte proprio di Ryanair. Il primo a presentare un esposto in questo senso era stato mesi fa proprio a Schifani. Adesso sono prove tecniche di dialogo. Il governatore incontra l'amministratore delegato di Ryanair e di Wilson nella sede di Palazzo d'Orlean a Palermo e riconosce l'importanza della compagnia per il turismo in Sicilia. E' chiaro, dice il presidente della regione, che il nostro obiettivo era e rimane quello di garantire prezzi più accessibili per il trasporto aereo e per questo il mio governo continuerà a fare in modo che venga favorita la libera concorrenza e contrastato ogni episodio di inaccettabile aumento dei prezzi. Valutiamo però anche l'ipotesi di avviare un tavolo tecnico per un confronto costante e costruttivo. Nei giorni scorsi, dopo il decreto nazionale che fissava un tetto ai prezzi, Ryanair aveva annunciato il taglio dei voli interni. Ora lo scontro sembra parzialmente rientrato e le prove tecniche di dialogo con la Sicilia sono importanti, visto che a chiedere questo incontro è stata proprio Ryanair. Eschifani ringrazia Urso e prende atto dei nuovi poteri dati all'antitrust e ricordando come proprio a questa autorità ci siamo subito rivolti, dice ancora il governatore, per segnalare la discriminazione dei prezzi sul trasporto aereo che subisce la Sicilia. Sbarchi continui alla Pedusa. Arrivati altri nove barchini nella notte. il leader del Movimento 5 Stelle Conte è sull'isola per incontrare medici residenti e commerciati. Marco Gullà. Ancora sbarchi, ancora una notte di arrivi a Lampedusa. Sono nove i barchini giunti sull'isola per un totale di circa 200 persone, tra coloro arrivati a Lampedusa anche bambini e donne incinte. Tutti, tranne 89 siriani ed egiziani, che hanno riferito di essere salpati da Zara in Libia, sono salpati da Fax, Vara, Monastir e Sabrata in Tunisia. Ieri sull'isola ci sono stati 23 approdi con un totale di 896 migranti, 13 dei quali si sono registrati in serata nel giro di un'ora, facendo temere una nuova ondata di sbarchi. All'hotspot di Contrada Embriacola al momento ci sono 1700 ospiti, di cui 443 minori non accompagnati. 500 migranti su disposizione della prefettura di Agrigento sono già pronti a partire. La polizia li scorterà fino al porto dove verranno imbarcati sul traghetto di linea Galaxy con destinazione a Porto Empedocle. Oggi intanto a Lampedusa, nel pomeriggio, andrà in scena una nuova protesta da parte dei residenti per ribadire il no alla realizzazione della tendopoli a Capoponente e il no a qualsiasi struttura legata alla gestione dei migranti o ad attività militari. Una protesta che si preannuncia accorata e abbastanza partecipata. Intanto, in questi minuti, il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, oggi a Lampedusa, sta incontrando gli operatori sanitari del poliambulatorio. Poi nel pomeriggio incontrerà residenti e commercianti dell'isola. Entrano infine in vigore da oggi le misure semplificate per lo smaltimento delle imbarcazioni con cui i migranti raggiungono le coste italiane. Con la pubblicazione in gazzetta del Decreto 124 del 2023, infatti, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, responsabile degli smaltimenti sull'isola di Lampedusa, potrà disporre, fin da subito, in via eccezionale, nelle misure strettamente necessarie a fronteggiare l'emergenza, l'affidamento diretto del servizio di alaggio e di trasporto delle barche dall'isola verso i siti della regione siciliana attrezzati per lo smaltimento. Cantiere Catania, più aree pedonali, metropolitana, passante ferroviario. I progetti dell'amministrazione per una maggiore sostenibilità. Giuseppe Lazzara. La città del futuro a Catania è il nodo della viabilità ferita aperta da sempre, fra le priorità di questa amministrazione. Più aree pedonali, metropolitana e passante ferroviario, voci diverse dello stesso sistema intermodale che punta a una maggiore sostenibilità. Non c'è tempo da perdere, il progetto di fattibilità tecnica è stato stilato e il finanziamento di 900 milioni si avvicina. Lo annuncia il vice sindaco con la delega alla viabilità all'urbanistica, Paolo Lagreca. Buongiorno Sicilia. Dopo piazza Mazzini, finalmente area pedonale, si pensa ad un'altra piazza del centro storico. Castellorsino è un'altra di queste operazioni che vengono da lontano, sulle quali stiamo lavorando. Migliorare il rapporto della città col mare. Prevista l'eliminazione di un tratto degli archi della marina per realizzare una pista ciclabile. Altro step che prevede il passante ferroviario. In assenza di questo piccolo spinotto che appunto va da Piazza Europa ad Acquicella, di fatto questa linea è inesistente. Devo essere molto chiaro su questo. I treni attuali che potranno passare l'alta capacità sulla parte da Messina a Catania e poi da Dittaino a Palermo non passano nella galleria attuale del Castellorsino. Per cui voi immaginate che cosa significherebbe. Significherebbe fare una linea che non funzioni. Sarà interrato. Da Piazza Europa il treno non sale più come fa adesso. La stazione centrale esistente avrà il treno con un piano del ferro più basso. Altre novità riguardano il potenziamento della rete metropolitana con una stazione a Piazza Duomo. L'idea è proprio vicino a Piazza Villapacini. Quindi di fatto attraversando Villapacini si entra da Porto Z. Altra criticità resta per la rete di bus urbani che per carenza di personale non sono tutti su strada creando ritardi e disagi per gli utenti. Anche quest'anno autobus gratis per gli anziani a Catania. Bisogna avere un'età non inferiore ai 67 anni, possedere un reddito non superiore a 9.600 euro per un unico componente del nucleo familiare, oppure di 19.200 euro per chi fa parte di un nucleo familiare. Il termine per la presentazione delle domande è il 28 settembre. Uniti nel segno di un'istruzione a vocazione europea. A Catania sancita l'alleanza fra dieci atenei dell'Unione. Gli studenti saranno i protagonisti del cambiamento. Torino da Mana. Tutti uniti nel segno di un'istruzione a vocazione europea con gli studenti protagonisti del cambiamento nel vecchio continente. A Catania è stata sancita un'alleanza che mira a diventare una mega università europea, UNIS, in grado di offrire percorsi educativi personalizzati ai propri studenti promuovendo approcci interdisciplinari e multiculturali. Un consorzio che vede protagonista l'Ateneo di Catania che naturalmente riempie d'orgoglio il rettore Francesco Priolo. Ci sono 150.000 studenti nelle nostre università, oltre 15.000 docenti e quindi uno studente dell'Università di Catania potrà studiare non solo qui ma anche in parte in una qualunque delle dieci università dell'alleanza. Gli studenti quindi sono gli attori del cambiamento? Assolutamente sì, l'Università Europea è per gli studenti e degli studenti e permetterà di avere uno spazio dei corsi, delle ricerche ancora più all'avanguardia, ancora più interessanti. Si punta all'allineamento dei processi accademici ed amministrativi tra le università partner da 7 sono passate a 10 con l'innesto di Peloponneso, Viseo e Karlstad sull'ampliamento dell'offerta accademica condivisa e sul sostegno dell'apprendimento delle lingue straniere. Inoltre si svilupperanno e promuoveranno l'eccellenza pedagogica e l'innovazione nelle università dell'alleanza con l'intento di contribuire allo sviluppo sociale, economico, ambientale e culturale dei territori coinvolti. Individuato dalla Guardia di Finanza a Catania, un imprenditore che si occupa di commercio via internet di prodotti elettronici è accusato di evasione fiscale per quasi 3 milioni e mezzo di euro. Paternò, avrebbero rubato merce per 23 mila euro al datore di lavoro, poi fingendo di avere individuato gli autori del furto, lo avrebbero sottoposto a estorsione. L'accusa contestata dai carabinieri a un 28enne che è stato arrestato e a un 61enne che è stato denunciato. Isab di Priolo, firmato il decreto che fissa limiti alle emissioni dello stabilimento che dovrà assicurare il rispetto dei valori massimi dei metalli nelle acque reflue che confluiranno nel depuratore di zona. Il decreto conferma gli impegni già definiti per la salvaguarda dell'occupazione, la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, la salute, l'ambiente. A Catania si infiamma la vertenza Dusman che si occupa di servizi di pulizia dell'università. I lavoratori chiedono un adeguamento contrattuale. Alcuni percepiscono soltanto 120 euro al mese a fronte di un contratto da 5 ore settimanali. In mattinata c'è stato un sit-in in Piazza Università a Catania. Fischietto in bocca, bandiere in mano ed un carico di pensieri addosso per far quadrare bilanci familiari, ammesso che una famiglia possa andare avanti con 120 euro al mese. Sì, 120 euro al mese. Frutto di un contratto da 20 ore al mese che impegna, si fa per dire, i lavoratori Dusman nei servizi di pulimento, di reception e di assistenza didattica dell'Università di Catania. Chiedono a gran voce un adeguamento contrattuale almeno di altre 15 ore e per questo avevano avuto qualche rassicurazione dal direttore Giovanni Lavia che nei giorni scorsi però si è dimesso. Il mio stipendio base è di 120 euro e per prendere 1000 euro al mese faccio quattro lavori per portarmi a mangiare a casa. Lavoratori e sindacati sono sul piede di guerra, cercano un nuovo interlocutore per proseguire una trattativa che si trascina da quasi due anni. Il futuro, in base a quello che abbiamo passato, non lo vedo così positivo. Anzi, oggi è un atto dimostrativo. Quest'atto dimostrativo è per fare capire all'Ateneo e a tutti i funzionari dell'Università che non stiamo scherzando. Se non abbiamo un'interlocuzione diretta, saremo costretti a fare quelle forme di lotta che poi sono nel nostro DNA che possono essere scioperi o altro. L'obiettivo è di arrivare almeno al minimo contrattuale. Queste paghe sono veramente esigue ed è veramente mortificante che i lavoratori facciano una dichiarazione del genere. Siamo qui appunto per dare dignità al lavoro, ai lavoratori e alle famiglie. Domani alle 9 una delegazione di lavoratori e di sindacati hanno chiesto ed ottenuto un colloquio con il dimissionario La Via. C'è un aggiornamento sul confronto tra Regione Sicilia e Ryanair. L'amministratore delegato della compagnia irlandese Wilson dice abbiamo discusso con il Presidente Schifani, abbiamo una proposta di crescita che possa portare in Sicilia a 3 milioni di posti, ma Ryanair chiede che venga rimossa, cancellata l'addizionale municipale che non rimane in Sicilia che serve a pagare i piloti dell'Alitalia. Questa è la richiesta di Ryanair. A 3 mestieri etneo una mamma catanese si è incatenata sotto un grande albero davanti all'ingresso della scuola dei figli per scongiurarne l'abbattimento. Eva Spampinato. Legata stretta con una corda attorno al tronco dell'ultimo albero rimasto in questa aiuola davanti all'ingresso del flesso Settebello Nord del circolo didattico statale Teresa di Calcutta di 3 mestieri etneo comune alle porte di Catania. Questa mamma che porta già nel nome Gea il suo spirito ambientalista non si muoverà fin quando non saprà perché il comune ha deciso di abbattere degli alberi secolari senza esporre un'ordinanza. Siamo arrivati qui e abbiamo trovato già due alberi, due pini molto grandi, anche un simbolo insomma di questo quartiere, completamente abbattuti. Era rimasto questo e quindi io ho deciso che lo dovevo salvare. Indignata anche Lega Ambiente che interviene con una nota per chiedere altrettante spiegazioni. Momenti di tensione si sono vissuti questa mattina tra gli operai delle Aditta, le mamme e l'assessore alla protezione civile del comune di 3 mestieri che prova a calmare gli animi. Gli alberi che in questo momento creano pericolo sia per quanto riguarda la viabilità, la sicurezza dei bambini, il defluire delle acque piovane che qui quando chiaramente c'è maltempo loro lo sanno, non si può nemmeno passare per cui per una questione di protezione civile abbiamo dovuto per forza di cose intervenire in maniera diciamo più o meno drastica ma saranno ripiantumati altrettanti alberi e forse anche di più. Ma noi siamo dovuti intervenire per cui una questione di protezione civile, l'aria sarà riqualificata. I cittadini però non si accontentano di queste sommarie parole, vogliono vedere le carte e capire perché la Aditta ha lavorato senza esporre alcun documento, quindi in modo irregolare. Nell'ottica di una manutenzione ordinaria diciamo che il comune dovrebbe riservare una parte della propria economia proprio per pulire i tombini, non si toglie l'albero perché fa degli aghi di pino, si pulisce la strada. E qualcuno insinua dei sospetti legati al rifacimento viario e dei parcheggi della adiacente scuola privata. Questo ha tre mestieri etneo, grande successo ieri sera nella Valle dei Tempi di Agrigento per il concerto dei Poo. 5.000 spettatori hanno assistito allo spettacolo e la celebre band italiana ha ripercorso oltre 50 anni di musica attraverso i successi che hanno fatto la storia. Davide Sardo. Un altro concerto sold out per il ritorno dei Poo in Sicilia. Dopo le due prestigiose serate live sul palco del teatro antico di Taormina, ieri sera la band si è esibita su un altro grande palcoscenico, il teatro della Valle dei Tempi, per l'ultimo appuntamento dell'estate 2023 del Festival del Mito. Due ore di concerto in un integribile spettacolo per rendere omaggio alla grande storia dei Poo. Sul palco Roby Facchinetti, Red Canzian, Dodi Battaglia e Riccardo Fogli per ripercorre oltre 50 anni di musica attraverso successi che hanno fatto la storia, tra cui Amici per sempre, storico brano del 1996, ripubblicato in una nuova versione per celebrare questo ritorno insieme. Grande l'entusiasmo degli spettatori che hanno cantato a squarciagola tutte le canzoni di una delle band più importanti della storia musicale italiana che ha emozionato intere generazioni. I Poo, capaci di vendere oltre 100 milioni di dischi in tutto il mondo, record assoluto per una band nazionale, hanno incantato la Valle dei Tempi. Doppio spettacolo, i Tempi e i Poo insieme. Passiamo una breve pausa, tra poco per il calcio la trasferta a Monopoli del Catania. State con noi. Eccoci di nuovo insieme con il calcio. Il Catania gioca domani a Monopoli alle 20.45 e Tabiani cerca il bis dopo la vittoria con il Picerno, trasferta vietata per i tifosi rossaggiuri. Intanto la società è ancora impegnata sul mercato per prendere il nuovo centrocampista dopo l'addio di Palermo. Marco Macarli. Obiettivo proseguire il cammino e se la partita con il Picerno era comunque delicata perché il Catania doveva cominciare a vincere, quella di Monopoli assume un significato simile. Prima trasferta su un campo tradizionalmente ostico, ma su cui il Catania vuole confermare progressi e soprattutto i tre punti. C'è pure l'amuleto, quel Tommaso Silvestri che giocherà ancora al centro della difesa e che quasi tre anni fa punì i pugliesi a domicilio nell'ultimo successo etneo in casa del Monopoli. In totale sono stati due, con sei vittorie dei padroni di casa e cinque pareggi negli altri precedenti. Nella formazione di partenza Out Rizzo ci sarà Ladinetti al centro della mediana, mentre Rocca e Zammarini dovrebbero partire ancora dal primo. In difesa Quaini scalpita per un posto, ballottaggio con Curado. In attacco Bocic se la gioca con Marsura, mentre Di Carmine e Chirico saranno ancora là davanti per rinnovare l'intesa vista con il Picerno e che ha portato anche i due gol. Sul mercato si stanno facendo delle valutazioni, anche sul budget. I nomi, Liotti e Zanellato su tutti, va capito cosa in realtà serve in organico per sostituire Palermo più un centrale nel caso di Zanellato o un poliedrico che può giocare a sinistra sia a centrocampo che in difesa come Liotti. A Monopoli non ci saranno tifosi del Catania, trasferta vietata perché il settore ospiti dello stadio veneziani è inagibile. Per ultime le notazioni sui padroni di casa. Due partite giocate finora, il Monopoli deve recuperare mercoledì 27 la prima gara di campionato con la Casiertana. Un solo punto conquistato. Pareggio in casa 2-2 col Monterosi-Tuscia e sconfitta per 2-1 nell'ultimo turno a Potenza. Ci fermiamo qui, il Tg Sicilia torna alle 20, grazie per l'attenzione, buon pomeriggio. Grazie. 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 Grazie.